Quanto più giovane è una cultura, tanto più grande è il suo timore dinanzi al calar della notte, questa cosa non l'ho scritta io, l'ho letta sul libro che ho comprato tantissimi anni fa, girovagando tra delle bancarelle quando la curiosità di trovare cose nuove era appunto andando nel bancarelle, guardandosi intorno, non c'era ancora il web, non c'era ancora internet e quindi avevo trovato questo libro, aveva un titolo che aveva subito attirato la mia attenzione che era luce, storia della luce artificiale nel XIX secolo e quindi dentro questo libro ho trovato questa frase che ho trovato subito interessante perché effettivamente pensando a quelli che devono essere i nostri antenati mille, duemila, cinquemila anni fa, diecimila anni fa, mi veniva da pensare cosa accadeva quando andava via la luce, la dopo il tramonto, quelle che dovevano essere le loro paure perché si ritrovavano a un certo punto senza più luce e senza mezzi per illuminare e quindi ad esempio quando poi rialbeggiava c'era questo il sole che diventava un dio così come c'era la luna, così come c'era la nebbia che gli affascinava e quindi questa cosa già da ragazzino era una cosa che mi affascinava e anche i miei primi ricordi, i miei primi ricordi quando ero veramente piccolo, ero ancora con i miei genitori e sono comunque legati alla luce, ad esempio mi ricordo questo viaggio che facevamo tutte le stati, andavamo da Pescara, che è la mia città, a Trento, che è la città di mia mamma, quindi i nostri genitori ci facevano partire, a me e mio fratello la notte, così intanto dormivamo in macchina, avevamo questa vecchia auto bianca, ci portavano quindi da Pescara a Trento e a un certo punto quando dormivamo, mi ricordo sempre che mia mamma durante il percorso sull'autostrada, quando iniziava ad albeggiare il sole, mia mamma mi svegliava e mi diceva Michele guarda il sole, eravamo ancora appunto sulla triatica quindi si vedeva il sole che sorgeva dal mare, io vedevo questa palla infuocata e quindi ne ero affascinato e probabilmente è un po' simile appunto a quello che accadeva ai nostri antenati migliaia di anni prima, anche perché è quello che accade anche tuttora a un bambino perché chiaramente un bimbo di solito non vede l'alba perché sta dormendo a quell'ora e la stessa cosa poi succedeva in un modo diverso anche al ritorno, perché invece il viaggio di ritorno a Trento e a Pescara di solito era, lo facciamo il pomeriggio, la sera e quindi a un certo punto mi trovavo all'altezza della pianura padana e vedevo tutta appunto questa nebbia, questa luce un po' fredda e poi in lontananza c'era un casolare con una lucina calda accesa e quindi anche questa cosa mi affascinava, capito che c'era qualcosa, anche questa immagine della nebbia che poteva essere un po' angosciante, mi creava però un'atmosfera, capito che c'era qualcosa dietro e questa cosa che insomma ha creato in me tanto interesse tanta passione e fortunatamente devo dire è diventata il mio lavoro, faccio il direttore della fotografia e appunto ho la fortuna di lavorare con tanti film, con tanti registi e poter dare il mio servizio a dei film, ad esempio dei film per raccontarvi un po' di me anche se un po' è stato detto, dei film che ho fatto, di quelli appunto che mi sono rimasti di più, uno di questi lo chiamavano Gigrobot, che comunque è stato un film appunto interessante da realizzare, così come Veloce come il vento, che è un film che ha a che fare anche con, oltre che con appunto una certa fotografia, anche con delle scene d'azione, insomma, un'altra cosa appunto di cui volevo parlare brevemente, giusto per raccontarvi di me, ad esempio ho fatto tre puntate della prima serie di Gomorra, che anche questo è un altro mondo interessante che abbiamo raccontato, così come appunto lavorare con registi più grandi come Martone, Moretti, anche questa insomma, alla fine è una cosa che mi riempie di orgoglio e penso anche di essere fortunato a poter lavorare con questi registi e quindi appunto però molti mi chiedono ma cosa fa esattamente un direttore della fotografia, perché effettivamente magari molti è un nome che ormai si sente spesso, però non si capisce o non tutti sanno quello che faccio esattamente, vi faccio degli esempi pratici, banali, ad esempio prendiamo una scena al ristorante, una scena al ristorante, girata al ristorante uno pensa, c'è il ristorante, ci sono le luci del ristorante, arrivi e giri, invece non è così, nel senso che diciamo che ogni scena per essere raccontata, per essere inquadrata, chiaramente ha bisogno di essere illuminata, ma l'illuminazione, colui che la controlla è il direttore della fotografia, quindi qualsiasi scena, anche la scena del ristorante ha bisogno di luci che possono non essere quelle del ristorante, cioè possiamo oltre le luci del ristorante aggiungere delle luci che lo spettatore non vede ma che creano l'atmosfera, delle luci che sono proprio delle luci del cinema o addirittura possiamo spegnere le luci del ristorante e aggiungerne delle altre noi che non si vedono o che si vedono, possiamo far filtrare delle luci dalle finestre per ricreare la luce del sole, possiamo fare entrare veramente la luce del sole, possiamo ricreare con dei proiettori la luce del sole, questo è in pratica il lavoro del direttore della fotografia che quindi più che far vedere una scena la deve far sentire, far sentire come emozione, proprio per raccontare quello che c'è nella sceneggiatura, perché effettivamente quello che poi mi accade quotidianamente a me come a tutti i miei colleghi che arriva un copione, una sceneggiatura dove c'è scritto, dove c'è tutto il film e la manda o il regista che vuole lavorare con me o piuttosto che il produttore quale vuole affidare a me il film e quindi da questa sceneggiatura, da questo copione inizio a farmi delle idee, che atmosfere creare, ne parlo col regista e ne parlo, che questo è l'altro aspetto del direttore della fotografia, ne parlo anche con la produzione perché ogni film costa molto, tutto il materiale che usiamo è un materiale molto costoso, servono tante persone per farlo e quindi ogni giornata di un film ha un costo importante e per questo tutte le nostre scelte, oltre a un lato artistico, hanno anche un lato pratico che discutiamo proprio con la produzione, con quelli che mettono e gestiscono i soldi. Quindi fondamentalmente queste cose vanno di pari passo, poi si fanno appunto quelli che sono i sopralluoghi dove si va nello specifico ad analizzare come girare ogni singola scena e poi si arriva magicamente proprio sul set dove iniziamo ogni giorno a girare varie scene. Bisogna sapere che sul set, oltre a continuare con questa ricerca artistica e visiva, qui entra ancora più in gioco quella che è la pratica, quella che è la pratica della singola giornata perché dovete sapere che a un certo punto della giornata per ogni inquadratura che facciamo c'è un signore che si chiama, che di solito l'aiuto regista, che viene da me, che viene dal direttore della fotografia e mi chiede sei pronto? Fin quando il direttore della fotografia non è pronto non si può girare. Ma questo per ogni inquadratura, per ogni giorno e per ogni set che uno gira aspettano il direttore della fotografia. Quindi questa è una cosa che chiaramente mi fa onore, insomma fa piacere a tutti quelli che fanno il direttore della fotografia, però anche è una cosa che ha una responsabilità importante perché chiaramente più il film è grande, più una singola giornata costa parecchio, più ci sono dei ritardi e più sale l'ansia. Quindi diciamo che la cosa per cui poi mi affascina il mio lavoro è sia appunto per questa ricerca visiva, per questo guardarsi intorno eccetera, ma anche poi per un lato pratico perché effettivamente dobbiamo, cioè appunto sul set arriva l'aiuto regia e rompe tra virgolette questa magia, questo essere diciamo solo artisti. E quindi intendo ad esempio la fotografia non solo come molti, non so, scrivono luce con la L maiuscola o scrivono filosofia della luce appunto con questi paroloni, ma l'intendo come un lavoro fatto sicuramente di talento, talento che non mi riconosco io ma mi riconoscono le persone che mi chiamano, è fatto però appunto di una grande praticità, di un'artigianalità che è proprio tipica anche del nostro modo di fare cinema in Italia e che è stato esportato anche all'estero. Mi ricordo ad esempio stavo facendo Veloce come il vento, appunto il film tra l'altro per il quale ho vinto il Davide Donatello alla fotografia e ci trovavamo in Basilicata a girare delle scene di questa gara clandestina ed ero proprio in macchina, stavamo girando dal Vero, c'era Stefano Corsi che tra l'altro è un gran pilota che guidava veramente lui questa Peugeot 205 Turbo 16, una vecchia gloria del rally, eravamo io e lui da soli a un certo punto perché stavamo girando dal Vero, quindi la truppa era distante, eravamo solo io e lui io ero nell'abitacolo a fianco a lui anche perché essendo piccolino entravo proprio perfettamente e a un certo punto la macchina si blocca e arriva questo consegnatario della Peugeot che era un signore francese e prende uno stecchino per terra che probabilmente era un gelato, insomma era uno stecchino di un gelato, poi con del nastro che avevamo messo sopra una macchina da presa, l'ha preso, l'ha messo dentro il motore e siamo ripartiti, questo è un po' l'artigianalità secondo me che c'è un po' nel cinema e che secondo me ci deve essere anche nella luce, nel modo di rappresentare la luce, tant'è vero che poi noi siamo ripartiti con questa macchina, siamo rimasti di nuovo da soli, sentivo proprio il rumore di questo motore antico che spingeva molto forte e nel frattempo appunto eravamo io, Stefano accorsi, il rumore di questa macchina e questi tramonti della Basilicata e cavolo ho detto vedi, ho pensato, mi sento fortunato che riesco a raccontare questa cosa anche con la luce naturale, anche osservando quello che c'è intorno, anche se poi questo film sarà un film dove ci saranno gli effetti perché magari cancelleremo qualcosa, però c'è qualcosa di vero, di naturale che stiamo raccontando e osservare, osservare le cose, osservare la luce per quello che è e non per l'effetto che ha, è una cosa che comunque consiglio a chi è appassionato di luce, a chi magari ambisce a fare questo lavoro o comunque ambisce a fare cinema o comunque ambisce a raccontare per immagini. Infatti la cosa che volevo lasciare come mia idea di luce, soprattutto appunto chi magari ha in mente di fare questa cosa qui, è soprattutto di osservarsi, di guardarsi intorno, ad esempio a me questa cosa ormai mi viene naturale, io in ogni ambiente dove mi trovo, che sia bellissimo o anche squallido, mi viene da vedere come è illuminato, ma in un modo che ormai è una deformazione professionale, anche la mia fidanzata sa che noi quando parliamo io però sto sempre vedendo come è illuminata, mi viene naturale, se vedo che c'è una luce strana dico aspetta un attimo fammi vedere, ma com'è, da dove arriva questa luce? Cioè anche adesso, vedo questo proiettore che ho, quelle luci che sono dietro, mi verrebbe da cambiare, da sistemare. E perché dico questo? Perché sicuramente ci vuole una passione e soprattutto ai ragazzi cercate comunque di creare delle immagini che siano statiche, quindi fotografie che siano in movimento, che però siano delle immagini che abbiano del significato. Cioè adesso con Instagram, con i social, con tutto quello che è, spesso vedo delle immagini che non sono immagini ma che sono effetti, cioè ovvero dove l'effetto va oltre l'immagine, dove l'immagine in realtà è solo un filtro, cioè nel senso non viene, l'immagine non ha significato ma ha significato l'effetto, quindi viene, cioè non cerchiamo immagini ma cerchiamo di creare gli effetti per cui la nostra foto può diventare un bottino da esibire. Invece non è quello, ma proprio dobbiamo capire la naturalezza della luce per poi magari trasformarla. Infatti ad esempio quando sono arrivato ho visto che si sono abbassate queste tende, ho detto peccato, cioè poi chiaramente è comodo averle chiuse per vederci meglio eccetera. Però per dire, cerchiamo anche la naturalezza e non cerchiamo di avere solo degli effetti perché poi alla fine non arriveremo da nessuna parte, perché poi appunto il cinema e l'immagine comunque è semplicità e naturalezza. Grazie.